E oggi il Presidente Mattarella vi chiediamo che quantomeno si esprima come ha fatto il Presidente della Corte Costituzionale dicendo ai cittadini che occorre andare a votare il 17, perché qui abbiamo un Presidente del Consiglio abusivo non eletto da nessuno e col trasprecare 300 milioni di euro di soldi nostri ha detto ai cittadini italiani non andare a votare, questa è veramente una vergogna.